Allora signori, è meglio questa voce di prima, questa è una voce, allora signori, siamo lasciati poc'anzi sopra un argomento che era l'interlocuzione e quindi dall'interlocuzione stavamo, questo lo faccio solo per rappresentare che io sono qui ad insegnare, non serve a niente, l'interlocuzione è quello che maggiormente farà della rete un problema, perché fondamentalmente la gente non vuole interlocuzione, non vuole proprio interloquire e quindi la rete improvvisamente si trova sprovvista di quello che è il segmento fondamentale, che è quello del dialogo e del confronto, come faccio a stare su questo territorio e non poter interloquire con i soggetti che per demanio, il proprietario del museo, comune, provincia, regione, il gestore dei fondi, bandi regionali, bandi provinciali, bandi di io sa solo cosa, quelli predispongono atti senza interloquire, tu vai la e dire mi presento, sono io quello che vuole interloquire e loro rispondono tranquillamente, che cosa vuoi? Ma li leggi il giornale, l'articolo 18. cosa fa la rete quindi? La rete improvvisamente, ecco perché da noi tutto è veramente faticoso, improvvisamente deve reinventare l'interlocuzione e come si reinventa l'interlocuzione? E come la storia di due innamorati, uno è molto innamorato e l'altro proprio non ti risponde, neanche gli sms, è difficile, a meno che tu non abdichi a quella che è l'idea normale, ci incontriamo oggi una pizza, domani uno spettacolo, poi un lungomare e poi infine una passeggiata più lunga e poi l'amore e decidiamo che improvvisamente io sono non profondamente innamorato di me che ti amo, ma io sono innamorato dell'idea di amore che per qualsiasi motivo, anche se tu non mi corrispondi, esce da te. Signore il passaggio non è più pratico ma è fondamentale, perché è fondamentale, perché improvvisamente noi dobbiamo fare i conti con una sola disciplina che nessuno ci verrà a misurare, che è dell'autenticità del nostro sentire e nel caso specifico del nostro amare, e proprio perché nessuno ce lo verrà a misurare e non c'ha ambiti di rappresentazione è chiaro che tutto questo passa attraverso un setaccio che può essere a trama sottilissima o a trama larghissima. Ma perché questo? Dice ma allora noi parliamo di rete e la rete non è un'attività, non è una professione. No signori, perché noi parliamo di una rete culturale e bisogna chiarirsi, una volta per tutte, che se tutta l'esperienza culturale dell'ultimo quarantennio in Italia ha fatto acqua da tutte le parti, o che siano grandi istituti o piccoli istituti, o grandi movimenti o zero movimenti, noi non possiamo fondare o rifondare una ipotesi di lavoro qualsiasi, chiamiamola rete, chiamiamola movimento, chiamatela come vi pare, su un parametro che di per sé ha dimostrato la sua inefficienza. Le possibilità sono due, non continuare ad accusare le persone che hanno esercitato quel parametro, ma entrare nel merito e capire se quel parametro è legittimo. Entriamo nello specifico, molti di voi qua si sono presentati dicendo signora io faccio teatro. Entriamo nello specifico e chiariamoci, molti di voi dicono, mi hanno detto qualcuno, io sono un ricercatore, ricercatore, attore, entriamo nello specifico perché piace rispondere alla praticità che ci suggeriva il vostro collega. che significa? Entra nel merito e dice, ma io ho fatto tre spettacoli, entriamo nello specifico, lei che cosa ha fatto? No, io ho ricercato alla biblioteca quella lì eccetera e poi ho fatto una bella ricerca su a quella biblioteca di Lecce. Entriamo nello specifico, che cosa hai fatto tu attore, tu attore e tu ricercatore? Nello specifico tu hai fatto quattro mesi, cinque mesi di prova per fare tre spettacoli e tu ricercatore hai fatto un anno, due anni di biblioteca dopo di biblioteca tutte le declinazioni che vuoi eccetera eccetera, anzi ora ti avvali anche di internet per quanto possa essere parziale, perché ti sostituisci all'esperienza diretta, detto questo per avere che cosa? Sia no una autoproduzione editoriale di una ricerca. Il prodotto così piccolo. Su quali fattori si basa? Sulla ricerca. Che cos'è la ricerca? Ore. E qual'è quella dell'attore quando sta dentro una sala prove? Ore. Legittime, non legittime, è lento l'attore, è lento il registro, non me ne importa. Ore di che cosa? Se poi va a tramutarsi tutto in un'ora e quindici, un atto unico. E allora improvvisamente capisci il limite, al ricercatore gli si chiede la pubblicazione, dice si va bene ma sta pubblicazione rimane una copia alla sede nazionale del Sant'Orso la Benincasa, una copia alla biblioteca comunale e poi venti copie all'editore che se qualcuno chiederà concedola postale lo venderà. E mi si chiede a me la praticità o mi si chiede di capire fondamentalmente che c'è un problema interno al ricercatore ed esterno al ricercatore, interno all'attore ed esterno all'attore. Innanzitutto quest'attore fa che cosa? Quattro mesi di prove? Tre mesi di prove? Ma questo lavoro ci sono arrivato aeree. Sono stati quattro mesi durissimi, di che? D'altra parte l'attore non può fare a meno, si può fare a meno diciamocelo tra di noi, di quattro mesi di prova, il ricercatore un po' meno di un anno di ricerca, ma fondamentalmente che cosa pongono questi signori? Un valore tempo che non viene riconosciuto. È il tempo che non viene riconosciuto. Cos'è il tempo? È la qualità fondamentale di ogni impresa umana che si ispira ad un valore nuovo. E non possiamo fondare ipotesi di rete, piuttosto che di servizi, eccetera, che non intendano quel tempo. Perché se noi continuiamo a creare dei modelli, a fagocitare dei modelli importati, chi dà la produzione industriale, chi dà la produzione artigianale, che non intende il tempo, noi facciamo lì il gatto culturale. E capiamoci chi siamo, perché solo attraverso il comprendersi e il tollerarsi per quello che siamo, dobbiamo tacere con le richieste e dobbiamo incominciare ad esercitare una pratica qualsiasi, ma ad esercitarla. Io mi chiamo Libreria, ok? E mi potete trovare in legno bianco all'IKEA. Ho una funzione, aderisco bene o male anche a un criterio, sai, sono di legno, no, mica di plastica, di legno. Quasi nobilito. Qualche cosa? Do la libertà, coloratemi come vi pare. Mi volete dare un colore un po' aggressivo perché vi siete lasciati dalla ragazza o dal ragazzo? Rosso. Poi tanto mi scartaveterete e diventerò color legno e poi prenderete un colore più riposante per gli occhi. che problema c'è? Sono una libreria di legno piuttosto che non di plastica e già diventa ecologica e posso essere verniciata con i colori che meglio vi passano nella testa. Poi improvvisamente entriamo a casa della signora sempre a rischio di ipocondria, parlo con lei, che vediamo che nel passare tra una camera e un'altra vediamo un altro mobile. ci riconosciamo, siamo fratelli allontana, ciao libreria, ciao libreria, mi saluta. E improvvisamente però io taccio perché quel fratello all'allontana, che ne so, è più bello. no, non è più bello, è più importante, no, non è più importante, è più pregiato, no, non è più pregiato. Che cosa c'ha quello che io non ho? Accidenti signora, ho bisogno di un bacile per affogarla. No signora, sa che cosa c'è quella cosa che io non ho? Che risfondiamo tutte e due la stessa funzione, la quantità non c'entra. Che siamo tutte e due di legno, ma quella che ho incrociato, improvvisamente, è una libreria che ha avuto un tempo, mentre io sono una libreria che non ha tempo. Non ha tempo, non è che sono eterna. Per costruire me è stato sufficiente un processo seriale. Sono uscito come un albero, sono entrato dentro un'altra macchina e sono uscito all'istello, da un'altra macchina sono uscito tagliato, da un'altra macchina levigato ed infine imballato. Con tutti i miei buchi. Il tempo di quel manufatto, che si chiama libreria, che risponde alla funzionalità di accogliere i libri, tanti, pochi, a seconda dei moduli, è uguale al tempo di quell'altra. Qual è la differenza? Che quello è stato fatto da un qualsiasi mobiliere. Improvvisamente quel legno che è sempre abete, è sempre scadente come scadente sono io, ma quello c'ha un tempo, che è quello dell'uomo, perché la levigatura non era seriale, perché l'incollaggio non era seriale. E improvvisamente noi due, non è che lui è più bello, io sono più bello, lui è più funzionale, no! No! Noi dobbiamo tacere di fronte ad una cosa, lui ha un tempo dell'uomo, io no! La storia quando mi accompagnerò con gli uomini, ma io sono entrato nella casa dell'ipocondriaca, non sapevo niente della storia di quella libreria che era di nonna, ma la libreria, tra librerie ci siamo parlati. E io ho dovuto riconoscere, questa è la praticità che va ricercata. Capire una volta per tutte che non è che noi dobbiamo tutelare i beni patrimoniali, archeologici, monumentali, librari, non ce ne importa niente, noi dobbiamo tutelare tutto ciò che è il tempo dell'uomo, perché solo in presenza di un tempo dell'uomo noi tracciamo una storia dell'uomo e parliamo con delle comunità degli uomini e troviamo l'unico argomento che non sia la funzionalità della pancia o fame, della rivolta a morte l'oppressore. Ma ci possiamo incontrare su un terreno qualsiasi che è pratico, perché il tempo dell'uomo è un tempo lungo una vita, e non raccontandoci i frottole, 70 anni, 60 anni sono lunghe vite da impiegare. Quindi una pensiero, lei mi invitava, è giusto appunto, entriamo nel pratico, ma a patto di non incorrere in quella fotocopia oziosa, perdita di tempo, bugiarda, falsa, di continuare a catturare giovani e non giovani, occupati e meno occupati, idealmente protesi e idealmente fermi su tematiche fasulle. Io non ti posso prendere per mano e chiederti, vieni perché facciamo il nuovo. Io ti devo prendere per mano e dire, vieni e riconosciamo per favore insieme la storia di ognuno e solo a quel punto il rispetto nei tuoi confronti si ciberà di qualche cosa di più delle tue ore di palcoscenico, se sei un attore o delle tue ore di ricercatore, perché lo riconoscerà. Non è un problema di salvaguardare il teatro antico, teatro di pietra si occupa solo, progetto di valorizzazione attraverso lo spettacolo dal vivo, dei complessi archeologici e monumentali. Teatro di pietra ha 63 aree da cui opera da più di 10 anni. Ogni anno ne azzecca una nuova e può continuare così all'infinito, perché per fortuna l'Italia è grande e bella, ma che cos'è che non riesce a scardinare teatri di pietra alla rete? Non riesce a scardinare la contraddizione. Com'è possibile che il ministro Franceschini e questa banda di inetti culturali, comprese delle eccellenze, si preme la testa per fare un bel pedana grande come il Colosseo, quindi per fortuna il Colosseo tu puoi entrare e guardarlo dal centro. Dopodiché leggi contemporaneamente, se ne è appena andato, l'ho fotografata perché a memoria, legge contemporaneamente che il sindaco di Roma sta mandando 5 Boeing, 5 Jumbo, in America i reperti archeologici non catalogati, non catalogati dei musei capitolini. Poi nel frattempo quel sindaco, quella giunta e quel capo di governo dice aiutiamo i giovani, poi nel frattempo vengo qui e sento giovani, meno giovani che dicono guardate qui c'è un gap culturale, veniamo trattati a pesci in faccia, ma voi pensate che siano opinioni differenti? No, questa è un'isteria e siccome le patologie non vanno curate, vanno mantenute perché le patologie sono alla regressione, che cosa ci vuoi dire, devi fermare e dire scusa, ma chi sono gli attori di questa storia? Da una parte i giovani, la disoccupazione giovanile, dall'altra parte che hai tonnellate di università, compresa quella vostra, di Bari, che sfornano sotto lettere, specializzazione in conservazione dei beni culturali, dall'altra parte c'è il più grande patrimonio del mondo, che continuano a dire noi ce l'abbiamo, quasi l'80% di tutto il patrimonio mondiale, dall'altra parte c'è i teatranti che dicono ma ci fate lavorare, come dico comando, poi dall'altra parte abbiamo quelli che dicono noi siamo per l'identità dei nostri territori, io mi chiamo pugliese, voglio essere della Puglia, chiamami pugliese, non voglio avere niente a che vedere con te che sei sardo, chiamati sardegnolo, che cos'è offensivo, che non voglio avere più niente a che vedere, ma è un'isteria, e uno all'interno dell'isteria o alza la voce, o prende un randello, oppure chiude la porta e dice signori io esco, perché nell'isteria è inutile che dico di essermi incontrato con te, con te, con te, le vostre istanze sono false e la rete non ha bisogno di istanze false, dice ma come false, lo sento, io lo credo fortemente, io mi chiamo donna, ho 30 anni, sono disoccupata, ho studiato fino a 24, i miei genitori mi hanno aiutato, poi sono andato a una specializzazione, mi chiamo archeologa, archeologo per modo di dire, mi chiamo attore, attore è un po' più difficile, no? perché è meno, come si dice, è meno scienze umanistiche, no? che è l'archeologo, no? mi richiamo professore, professore di lette, mi chiamo professore di storia e l'arte, ma che cosa vuoi da me? Su che cosa dobbiamo dialogare? Su chi sei tu? Sul tuo curriculum? Allora, chi sono gli attori qua? Posso averne uno? Perfetto. Signora, se lei venisse a una delle selezioni a cui alcune volte mi chiamano per fare, sono sincero, lei verrebbe sicuramente con il suo book, no? Due fotografie e molto probabilmente un curriculum, credo. Io ormai, ma purtroppo ormai, lo dico come ultima spiaggia, naturalmente confiderò solo ed esclusivamente sulla prova che lei farebbe con me, ma io poi le chiederei, signora quante ore di palcoscenico ha? E lei mi direbbe X, perché non ci capiamo, e io entrerò nel particolare e le chiederò quante ore di spettacolo ha? E lei mi direbbe Y, Silon, e a quel punto io rintuzzerei, e lei chiederei, signora non mi presenti il curriculum, non mi fa vedere il libretto di lavoro? Che non significa che la signora, io devo scoprirla non capace, no? Qual è la misura del lavoro di un attore, di un ricercatore? Dice, ma io sono un ricercatore di biologia, e di che occupi? Ti occupi? Delle dolicopode, è il quinto anno, e poi che fai? Assistenziato non pagato, non ritribuito presso la facoltà come assistente? Bordello, hai mai pubblicato? No, solo su delle riviste online. Siete voi che non avete diritto di cittadinanza, se non avete chiaro qual è la dignità che va riconosciuta alla vostra attività pregressa, ma soprattutto da venire. Non è quello che dovete fare, non è come lo farete, ma il diritto di cittadinanza si ha quando vi ponete in un ambito in cui almeno un valore sia pari, per lei che è attore, per me che sono un idraulico, ed è qual è. Ritorniamo alla libreria. La funzione? La funzione produttiva di un giovane di 30 anni, di un giovane non più giovane, di 40 anni, di un falso giovane di 50 anni, un esodato. La funzione? Ci possiamo capire. La produttività? Quanto rendi? Prodotto interno lordo? Hanno fatto una stima, un italiano disoccupato, anche se disoccupato, produce un prodotto interno lordo di 916 euro al mese. Non so che stime sono. Culturale? Culturale? Che incidenza hai? No, sociale? Che incidenza hai nel sociale? Non parlo delle opere di solidarietà che fai, o che sia andare all'oratorio dei preti, piuttosto che all'oratorio di lotta continua e in entrambi i casi prestare la tua opera gratuitamente, oppure salvare i barboni, o piuttosto che non pulire i litorali, piuttosto che non fare la marcia per la pace. Ti do il cento sopra il coso. Ma qual è l'unico punto in comune tra me e te? E rispetto della parolona, rispetto della tua identità di tempo, prima ancora di essere storia, diventa storia in relazione, in funzione. Perché vai dall'intarsiatore e dici, ma guarda com'è pregiato, e quello ha un valore, che cosa gli dà quell'intarsiatore? La maestria, l'arte, il mestiere, ma che cosa gli ha dato? Il tempo. Vedi un quadro, ti piace o non ti piace, eccetera, però ne leggi la sapienza della pennellata, la minuziosa ridistribuzione della scala cromatica, ti butti là dentro e dici, ma quanto tempo ci ha messo? E improvvisamente quello dà valore. Poi finalmente vai a prenderti una fede inunziale perché qualcuno ha deciso di volerti sposare, sì, è bella, è brutta, è giusta, è di platino, è d'oro, no, è semplicemente d'argento, è laccata argento, è l'arcata oro, ma improvvisamente capisci che non è un prodotto di bigiotteria perché ha un tempo, quello dell'orefice. Una volta solo siamo andati a Murano, ah, bellissime quelle sfere, che c'avevano quelle sfere? Le trovi seriali, mille volte più colorate. Quelle aveva il tempo. E vai adesso, la De Agostini fa i pastori di resina, compri un pastore di 3,50 euro, compri un altro pastore, le pecorelle, eccetera, eccetera, sono identiche, signori, sono identiche al presepe napoletano che hanno esposto a Santa Consulta a Napoli. Perché? Gli hanno dato i diritti d'immagine, no? Identiche! Eppure tu prendi quella e prendi quello e dici questo è quello vero. Perché? Perché uno ha una proprietà che l'altro non può avere. Il cromatismo è identico, la forma è identica, sono fatti con il laser, sono pari, pari, signori. Prendeteli dalla De Agostini a 3,50 euro. Uno c'ha il tempo, che è una proprietà che si reca con sé, quell'altro non c'ha il tempo. Dice, il tempo perché quella lì era la statuetta dei nonni. No! Il tempo dell'atto della creazione. Ed entriamo finalmente alla questione che ci interessa. La cultura è un atto in itinere di evoluzione, no, di creazione. Ma la creazione da che si fa? Senza affrontare la teologia, dal caos, chiamatela come vi pare. Comunque si fa solo ed esclusivamente dai componenti primari. Un po' di chimica parla di componente primario, non di un estruso, non di un agglomerato, non di un fatto. La cultura, voglio la testa tua, non il tuo comportamento sociale, non il tuo applicativo, quanto hai studiato, con chi hai studiato, come si chiamava lui, si chiamava Peter Brook, no, si chiamava teatro sociale, si chiamava che me ne importa, quanto è tutto questo diventato dentro la tua testa di attore, ricercatore, di giovane, non giovane. Quello è l'elemento originario. Perché si dice che erano grandiosi gli antichi? Perché una pietra antica è diventata prima recinto, poi tempio, poi calce, sminuzzata nel Medioevo, poi capitello, poi quello che ti pare, ma perché poggiava il suo sistema costruttivo su elementi originali? Pietra, pietra, travertino, travertino, idee, idee, non posture di idee, non imposture di finalità. Voi, che cos'è la Puglia? Io non lo so che cos'è la Puglia, ma prima di andare a pensare che la Puglia possa essere una sede dei teatri di pietra, perché c'ha un teatro, io direi che la Puglia sono le masserie, ma prima delle masserie, io che non so niente della Puglia, non sono l'Indo, cos'è la Puglia? L'Olivo, io che non so niente! Il policentrismo culturale di chi? Di Federico II, tutta sta roba, come deve essere! Non significa che da domani Laboratori dal Basso fa una serie di seminari sopra, facciamo il festival federiciano, questa è come la sagra della porchetta, dice perché fai la porchetta? Perché ci stanno un sacco di maiale. ma io abito alle porte di Roma e c'è la sagra della castagna e non abbiamo un albero di castagne. Ad Aidone c'è la celebrazione storica di un palio che non è mai esistito. La perdonanza si è inventato il circuito dell'Atam, dell'Abruzzo e del Molise, all'Aquila, prima che crollasse, inventandosi un falso sostino quinto, la secondo, non ha mai da chiesto né ha dato il perdono. Eppure c'era il festival della perdonanza. Bodini è il centenario della morte, non è l'anniversario che ci deve spingere a fare Bodini. E improvvisamente tutti a fare Leopardi, perché? Che c'è? Che mi sono perso di Leopardi? Che era nato, che era andato a scuola o che era morto? C'è un Leopardi in mezzo. Ah, che cosa c'è? Ma perché Edoardo? Sono passati cento anni. No, è il trentennale. Ok, poi ci sarà il quarantennale. No, perché... Diciamoci la verità. Perché in questo momento Mariangela è stata attenta ad un trentennale, la signora d'abbraccio. E forse fra dieci anni non c'è un'altra Mariangela che starà attenta a questa scadenza e ci perderemo il quarantennale. E' chiaro? Allora non sono quelle le attività creative di una rete, quelle sono le occasioni. Sono la crona che uno prende un bel bigname, anzi in Wikipedia, taglia la testa a torre e dice oggi è morto, oggi è nato, oggi è successo. Non si fanno così gli spettacoli, non si fa così una politica culturale, non si fa così un qualsiasi indirizzo in cui io mi devo prendere l'onere di prendere il tuo tempo. Mi chiedeva praticità anche il signore che mi ha invitato, Stefano, dice entriamo nel pratico. Ma non si può entrare nel pratico senza di voi. Non si può entrare nel pratico senza un'istanza che si sia già manifestata. Si può entrare nel teorico. E allora io prendo, siccome sono qui, e ottempererò anche questo, nel pomeriggio dirò signore, io Gatti sono a capo di un progetto sulla trascendenza in senso laico. Faccio un progetto su tre grandi cattedrali arabo-normanne. Qualcuno ha da uscire qualche cosa sulla trascendenza che abbia un po' di spessore e che superi ogni mio pensiero immaginabile? Parliamone! poi vi dico bene signore sto facendo già il 16 gennaio la riunione i teatri di pietra come ci abbiamo quelli della Sicilia, della Campania, della Basilicata, un pezzo in Calabria, in Sardegna, in Toscana, in Emilia Romagna che fa paura, nel Lazio, vogliamo tentare che c'ha quattro quattro sassi in croce che ci inventiamo una roba. Però attenti, ma quando poi facciamo questo, come giustifichiamo quell'altro quell'altro che dice no, attenzione, io volevo fare una rete, ma io voglio fare una rete che corrisponda perché sono due anni che mi occupo di Tennis William. Quell'altro dice no, un attimo, un attimo, io sono andato forte con tutta una ricerca sul giardino e ciliegi di Chekhov. Cioè, possibile che ci sia una rete a cui partecipo che poi non mi dà lo spazio per fare il mio Chekhov e quell'altro Tennis William, e quell'altro le poesie Spoon River è quella la differenza tra una rete, una lobby, un clan, una filiera di servizi. La rete nasce per dare qualche cosa che rispetti il tuo di tempo, ma che illumini un qualche cosa che non sia mia e non sia tua perché io oggi ti posso appoggiare su Spoon River e domani ti chiederei il cambio su Ecuba e che facciamo? Ci scambiamo il tempo, dieci tempi a te, cinque tempi a me, io ti do una piazza a me, tu mi dai una piazza a me, ecco quello che ha portato alla defragrazione per cui oggi per cui oggi l'isteria si poggia con legittimità sulla bugia e non è un problema se voi votate di là piuttosto di qua, se mantenete i vostri amministratori in tonzi, il problema è che andate a partecipare a cose non governative, ripetendo e rimodulando i vostri pensieri su quelle robe che non sono perdenti, sono perdenti per i giovani perché non danno prospettiva e sono perdenti per gli anziani perché non gli dà riconoscimento del suo tempo e tutto si trasforma in carne a macello quindi non ci dobbiamo dire noi nel pomeriggio lo diremo e poi abbiamo un altro progetto con contemporaneo sensibile da schianto sicuramente qualcuno di voi ci potrebbe entrare dentro perché sono un progetto su due cose uno la valorizzazione delle grandi biblioteche storiche voi insomma ce l'avete come contenuti ma non avete edifici singolari come la biblioteca abeliana piuttosto che quella di Benedettini di Catano io vai gli edifici dove tu entri e dici che sono io voglio essere un libro qua dentro ok l'altro invece che lavora solo ed esclusivamente sui chiamiamoli i grandi musei d'arte contemporanea due progetti distinti uno parte dalla Sicilia l'altro in verità parte da Bergamo che fanno molti molti tasselli quindi quindi ce ne sono di progetti che io nel pomeriggio dopo che avremo fumato e fumato io mi permetterò di esporre ma fondamentalmente a capirci così ci siamo esemplari e speriamo che lo streaming poi non mi vengono a cercare la calda in Sicilia c'è un organismo che si chiama la rete del contemporaneo io ho osservato le attività di questo organismo aderisco pienamente a tutte le loro istanze fondamentalmente va benissimo peccato che c'è scritto la rete del contemporaneo doveva chiamarsi associazione di coloro che ritengono di avere diritto di praticare il contemporaneo continuavano a fare la stessa cosa e andava da Dio perché la rete non può essere l'occasione per scambiarsi gli spettacoli una rete non è l'escamotage per dire eh signor Murciano che c'è un teatrino qua quanto è piccolino benissimo io c'è un altro teatrino là piccolino adesso ti passo dieci dei miei programmi tu me ne passi dieci e casomai gliene mettiamo uno strano a te uno strano a me quindi signori non è rete quello è vivere male in povertà facendo un gran sinonimo all'impotenza reciproca ma non è rete rete e se Murciano mi dice senti io ho 30 ragazzi e sono problemi miei ma sono disposto a portarli in dote pare a te tu me li fai venire 30 in dote pare a te e incrociamoci in un punto di mezzo e facciamo una storia che possa essere uguale a te a me qual è forse quella del brigantaggio perché parliamo con la basilicata allora improvvisamente siamo costretti a parlare con scena mediterranea della basilicata allora come vedi non sono più un rapporto singolare diventa plurale ma quello della basilicata dice bene ragazzi tranquillo io lo faccio perché mi piace la basilicata e il punto di incontro tra te e te metto il teatro eccetera però siamo fessi ormai con Matera capitale della cultura mi sembra opportuno per lo meno se proprio dobbiamo parlare di briganti parlare del brigante materano e allora improvvisamente siamo costretti a parlare con il coordinamento di Matera capitale europea per la cultura e vedi 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 ma questo com'è possibile a patto che io aiutato dal signore che mi chiamava la praticità non sia arrivato dal signore dicendo fai come ti pare facciamo le cose insieme ma io devo fare il mio spettacolo che si chiama Sirano de Bergerac perché se io arrivo chiedendo a Murciano di ospitare il mio spettacolo Sirano de Bergerac Murciano mi ospiterà il suo mi ospiterà e in cambio dirà sì ok tu ti prendi Odessa la figlia degli dei e vedete non c'è nessuna rete tutto si ferma là niente procede nulla si inventa quindi passaggio ancora più avanti è logico che c'è l'infatuazione sulla comunicazione con i telefonini con le cose eccetera perché per comunicarsi uno scambio di tipo commerciale basta anzi se è un telefonino un poco munito ci puoi mandare anche il fax anche la firma la PEC e se invece io mi devo incontrare con Murciano perché nel preciso momento che abbiamo detto io porto i miei trenti tu porti i trenti però vediamoci in Basilicata e la Basilicata ha già detto scusate ma venite in Basilicata ma siamo scemi è una grande opportunità per la cultura vedete come i pensieri diventano pratici ci vuole niente ma a condizione che noi non siamo solo ed esclusivamente venditori della nostra autoreferenza perché io sono sicuro che dentro questa camera questo consesso ci saranno quanti siete dieci dieci esperienze esemplari dieci percorsi unici dieci sensibilità straordinaria tutto al top ma fondamentalmente se voi non avete l'esercizio della pratica non dico del collettivo del plurale con voi io non posso fare niente se ho un di più di produzione in termini di denari di tempo posso dire posso dire va bene laboratorio al basso vuoi che do un seguito a questa esperienza di questo incontro va bene mandami tre attori e vedremo di metterli questo è il rete secondo voi questo corona la diversità vi dispiace faccio delle domande ma per fare per capire io vi chiedo semplicemente l'attività principale lavorativa e l'attività principale a cui vi dedicate lei la sua attività principale ok è anche lavorativa cioè ci mangia fa solo l'attore fa solo l'attore perfetto quindi lei mangia e vive solo con l'attore è così perfetto signora lei lei è attrice quindi lei mangia e professa l'attore il teatro lei quindi se io vengo alle otto e mezza sotto a casa sua non la trovo perché sta dormendo perché ha finito ieri sera tardi perché lei tutte le sere va in palcoscenico quindi la sua attività dedicata è d'attore poi ha un'altra attività con cui è rotonda qualsiasi altra cosa in questo momento qualsiasi altra cosa cos'è? niente ci piace perché è esteso lei? io dirigo laboratorio di teatro terapia principalmente e poi svolgo l'attività di attore quando ce lo fanno fare perfetto per capirci il suo reddito mensile con cui si paga il motivo di essere un buon consumatore contemporaneo da dove le raccoglie quelle risorse dai progetti dai quindi dall'attività culturale chiamiamo così la signora bionda con gli occhiali io mi dedico ad attività legate all'infanzia e nello specifico mi occupo faccio di animazione teatrale con burattini pupazzi quindi quindi il mio tempo libero è dedicato alla costruzione dei dei pupazzi esatto dei burattini ok e quindi potremmo definire la sua attività didattico educativa però legata all'infanzia applicata al teatro al teatro sì ok e con quello lei ci vive quanto costa ogni testa di burattina allora diciamo senza considerare il tempo che dedico alla costruzione che comunque è dovrebbe essere quantificabile anche a livello monetario solo di materiali dipende dalle stoffe che si scelgono devo dire la verità quindi dipende anche dalla qualità dei materiali che si scelgono difficile dire esattamente quindi voi fate gomma piuma rivestita oppure sagomate direttamente sì allora ho testa di legno con pasta di legno oppure gomma piuma rivestita di stoffa elastica ok questo con bocca mobile e anche animali signora in verde lei che cos'è? io non mi occupo di teatro per fortuna me ne sono occupata indirettamente quando ho scritto una tesi sul teatro insegno italiano a stranieri italiano agli stranieri? studenti Erasmus quindi se le arrivano dieci emigranti lei gli insegna l'italiano? sì e comunque e perché sta qui oggi? per curiosità la curiosità è la madre di tutti i vizi prego lei che ride con una bella camicia righe io mi dedico al teatro insegno teatro all'università della terza liberità ok e in più faccio l'attore ok vive con l'attività educativa? vivo come impiegato e occupo il mio tempo libero il pomeriggio a queste attività questo è proprio da prendere in esempio trovatevi una vita di rappresentazione un bel lavoro un posto fisso un part time eccetera e poi fate il tempo residuo quello che vi pare qualcuno vi potrà suggerire un problema di dilemma però se abbiamo superato l'alienazione di Carlo Marx possiamo andare abbiamo detto no non era l'alienazione il mondo è diviso ok lei che fa? scusate è il signore con la giacca di di pelle si pelle pensionato dottore pensionato io prendo già una pensione per una serie di contributi passati però è chiaramente non vivo con quella quindi voi siete entrati in pensione con 3600 o 4800 contributi? no perché al tempo in cui facevo io teatro ne bastavano 900 adesso un danzatore deve portare 4800 contributi perché cita il danzatore perché 4800 contributi in un anno lavorativo che sono 240 giornate possibili vuole dire 10 anni 20 anni in cui tu lavori tutti sempre tutti i giorni e tenendo presente che mentre riconoscono alle hostess e agli steward che gli scoppiano le ovaie quindi un lavoro che ha un margine di logoro professionale al danzatore dicono no no tu hai finito cioè tu hai ballato con la prissess che gli ha piuttosto che Dio sa solo cosa va bene non ti preoccupare per finire il tuo turno di vita lavorativa eventualmente puoi fare la guardarrobiera se queste cose sono possibili signori è perché non c'è il rispetto della categoria o perché non c'è il rispetto del tempo della vita delle persone cioè quella lì sotto l'acqua sopra il serciato faceva attento che se ti rompi la gamba non puoi fare il saggio aveva otto anni e poi il momento proprio straordinario del fiorire della pubertà invece di andare con gli amici matta andava a farla sbarra e poi niente poi gli è stato costretto a 17 anni l'insegnante ha detto guarda se vuoi veramente devi andare a fare i concorsi fuori è stata fuori la madre gli ha pagato il padre gli ha pagocidato è stata fuori a 23 anni finalmente diventa ballerina in fila stoccarda eccetera eccetera poi che cosa succede che una colonna vertebrale grazie a Dio non è come i pensieri degli attori si logora e logorandosi gli viene quello che viene a una colonna vertebrale e a 43 anni non puoi fare più cambrè e la schiena non si piega e quindi automaticamente se un danzatore ha un po' di presenza si ti useranno per 3-4 anni a fare delle comparsate delle belle passeggiate ma poi cioè quella vita quegli occhi che hanno visto ballare quel bolle piuttosto che quell'altro io che sono stato all'arena di Verone e ho visto proprio ho visto la Vassiliev che prendeva e diceva insomma traduzione non ce la farò stasera tutto questo io poi se lo devo riscattare diventando un guardaroba che tu mi porti la tua giacca e io ti do un talloncino poi alla fine lo spettacolo sì 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 no per dire no io che mi trovo a dover passare qui è il gap su cui voi prima di raccontare quello che volete fare vi dovete cimentare cioè io vado ad una consesso molto più numeroso di questo a Bologna parlo di danza e a un certo punto uno gli dice senta ma lei a che ora finisce perché poi abbiamo questo incontro col seminario di Pina 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 chi ma Pina Bausch ah è qui Pina no è al quarto piano la sala dei video quindi tutto quello che abbiamo parlato per tre ore che io chiedevo scusate avete visto Pina Bausch e voi non avete detto certo ci mancherebbe altro cioè voi ve lo siete visti in video e mica sono venuti tutti a Bologna io confrontavo una vita reale bello brutto che sia la mia con altre persone alla pari che invece si confrontavano con me con una vita replicata rappresentata bonificata a secondo della qualità del video e tutte e due parlavamo di Pina o della Papas capite che se noi arriviamo a questo nodo vuole dire che nessuno di voi e nessuno delle vostre identità serve a qualche cosa e allora perdonatemi io prenderò chi può sollevare da solo questo tavolo non mi importa che sia un filosofo o uno che ha fatto un teatro o che ha operato chissà cosa nel sociale perché a quel punto il problema sarà spostare i tavoli se voi solamente concedete una parte dei vostri pensieri a tollerare questo prima ancora dell'assenza di lavoro della difficoltà nel continuarlo se voi minimamente tollerate che l'archeologo di Roma venga bypassato da un Boeing o da un 742 quando c'hai a Roma solo a Roma 23.000 neolaureati tra archeologia e conservazione che si guardano e si grattano le palle se solamente minimamente ti fai estraneo e non dici no guarda già c'ho i problemi miei a Bari tu non puoi far rete perché la rete è solo la consapevolezza di ciò che esiste di identitario tutto il resto non ha misura io non lo posso sostenere perché io non posso agire aderire lei signora con la sciarpa chi è? è l'unica con la sciarpa qua dentro sono io io sono beh sono Angela faccio l'attrice faccio laboratori creativi con i bambini e poi call center è quello che capita è il call center che ci porta i denari veri però non vi porta la tredicesima no? perché voi siete un partito in un cocco con ok straordinario quindi lei è attrice di adesione adesione cioè voi aderite all'idea di attrice alla causa però praticate il call center no no pratico no pratico comunque pratico su 360 giorni quanto praticate di più? no no pratico più il call center capita almeno poi il mio compagno lavora in un determinato ambiente faccio che meravigliosa che meravigliosa signori passiamo dal fondo lei chi è? sono una studentessa universitaria principalmente poi comunque a livello monetario se possiamo parlare di introiti ho fatto la barista la cameriera a livello comunque stagionale proprio perché studiando non potevo farlo in maniera assidua sono appassionata di teatro infatti il curriculum che ho scelto per l'università l'università a lettere è proprio di cultura teatrale ho fatto qualche partecipazione in qualche spettacolo mi tolgo una curiosità quante volte va cambiata l'acqua con il sale nella macchina del caffè? ecco questa è una buona domanda perché di regola dovrebbe essere fatto quante volte l'ha fatto lei? ecco io l'ho fatto spesso perché il nostro e faceva lo spurgo lo spurgo si fa spesso per il livello igienico la signora non si fa lei quante volte lo fa? io lo faccio spesso cioè spesso le spiego si dovrebbe fare a livello igienico sempre quasi a ogni caffè praticamente solo che i titolari non te lo chiedono assolutamente anzi se lo fai anche perché devi fermare la macchina eh sì perché è una questione di rapidità allora signori non è che a me interessa niente dello spurgo e non volevo coinvolgervi sulla disciplina come meglio spurgare una buona macchina del caffè meglio se gaggia e per capire che improvvisamente la signora viene qua e crede che il suo consesso scusi che approfitto sia quello un po' teatrale e culturale e quindi mi dice ho fatto quella recita ho fatto quella scelta eccetera e di lei mi dà una faccia della luna ma noi sappiamo che la signora è tonda e quindi c'è anche l'altra faccia della luna la rete non se ne fa niente di una faccia della luna non è detto che la rete possa avere una necessità impellente dello spurgo della gaccia a quattro bracci è chiaro? ma è quella conoscenza che noi stranamente per un forma mentis riteniamo che questo non sia l'ambito la rete ha bisogno di professionalità ha bisogno di uomini a tutto tono le professionalità mi perdoni io lavorando su più territori che c'è un grafico qua ne trovo uno meglio da un'altra parte che c'è un attore qua ne trovo uno a minor prezzo da un'altra parte cosa c'è un elettricista un datore luci se io devo confrontare le persone su quella ipotesi che si chiama mercato a fronte di una funzione ognuno di voi può trovare un competitor migliore su che cosa non troverà competitor sull'unicità e che cos'è che ve la dà l'unicità i vostri pensieri no bastate già su facebook ad esprimere le vostre unicità no ve lo dà solo l'esperienza per cui improvvisamente non so quanti di questi signori che hanno fatto i baristi anche loro sanno del cambio della dello spurgo col sale della macchina perché se no il caffè è una ciovega improvvisamente il consesso di persone che vogliono fare la stessa cosa ma si poggiano non sulle autenticità referenziate o meno dell'argomento ma sulle autenticità integre della persona questo è la rete infatti io chiedo ma non è che è un'ambizione troppo siete sicuri che vi interessa fare la rete che non vi interessa un po' di più un'associazione di servizi un ennesimo terziario perché la rete chiede e cade l'asino chiede uomini esperienze non chiede il primato posso posso fare un intervento in aggiunta signora giusto perché io qua sono come lei certo pensi se è plurale il suo intervento o se è simbolare ho aspettato che terminasse di parlare volevo semplicemente dire che se poi uno parla di sé può anche dire io sono qui perché sono curiosa o perché sono appassionata di teatro perché mi piacerebbe fare delle esperienze però è ovvio cioè io parlo di me che uno non sia già esperto in tutto anche se una persona si approccia alla vita comunque con partecipazione quindi magari io parlo di me e dico che se sono qui è perché sono curiosa di ciò che viene detto quindi non posso aggiungere altro finché non sarò io non mi permettevo di chiedere perché state qui queste qui credo siate tutti adulti e vaccinati o perlomeno maggioremmi io mi chiedevo semplicemente quali erano le vostre forme di sostentamento perché non prendiamoci in giro io sono partito da qua per arrivare al signore che poc'anzi mi ha detto sì ora entriamo nel pratico lei donna esiste? esisto e sono uno studente studente di cosa? scienza dello spettacolo teatro teatro qui a Bari? cinema, musica sì quindi c'è una disciplina dove? in lettere? sì lettere e filosofia ok quindi quanto le manca a portare a termine il corso di spero un anno quanti esami ha fatto? molti ok credo che le sue risposte li conforta con guardando altre persone perché parliamo di un mare magnum cioè nella famosa biblioteca della Micellanea va bene quindi molti qual è l'ultimo esame che ha dato signora? l'anno scorso un esame di letteratura italiana ok e allora sarò più pertinente qual è l'ultimo esame collegato alle scienze dello spettacolo che ha dato? letteratura italiana letteratura teatrale italiana possiamo intenderla così ok perché sono qui secondo me no non glielo chiedo guarda perché se no la risposta è la solita per curiosità ma signora non glielo chiedo no so che è studente quindi lei sta in quel sacro parcheggio che non deve produrre non deve lavorare e qualcuno la mantiene io metterei qui un fermo posso approfittare di questa donna ah c'è un'altra donna scusi appena arrivata chiedo scusa ok lei allora non mi permetto di chiedere perché sarebbe sconveniente per chi si è dovuto sorbire me per tre ore prego signora attrice lei è attrice ho capito attrice produco diciamo sempre nei limiti che mi sono consentiti dai regolamenti e dalle norme vigenti attuali insegno e dedico tutta la mia vita insomma a questo bandi 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 mi alzo la mattina alle 6 e studio i bandi per poter attivarmi con c'è il rischio che diventa proprio una icona del terziario culturale ho già superato molta depressione diciamo ah ok quindi lei ha superato la patologia con la sublimazione della della malattia diciamo che piuttosto che sentirmi depressa in un modo preferisco sentirmi depressa facendo quello che faccio vincente posso sapere lei come si sostiene da quale fonte beh tutto recitando insegnando dai bandi facendo consulenza comunque da quel comparto tutto e poi una percentuale diciamo un po' mi imbarazzo a dirlo però mio padre è morto mi ha lasciato un appartamento è morto e ho pagato è la morte ha pagato e quindi questo appartamento per fortuna tra virgolette sono stata morta di fame quindi ok comunque fondamentalmente lei riesce per qualsiasi sorte ad essere solo nell'ambito anche per ravvenire quelle che sono le risorse perché diciamo di suo si può garantire un altro piccolo ambito così la signora in verde con un collo di sintetico verde sono una studentessa lettere curriculum cultura teatrale e i capelli sono un nennè oppure sono no non mi offenda sono naturali signora che ne so io se ma io come l'ho frequentato ho passato le mani nei suoi capelli ho sentito la fibra intensa di un capello pugliese oppure mi devo fidare degli occhi scherzo ovviamente e quante donne il signor Murciano mi ha portato in un bar e io ho incrociato tre rosse e dicevo ma sono tutte rosse qui a Bari poi ho detto no ci avranno le nennè ora finalmente ho una donna qua vicino rossa dico e ne mi dica quale nennè usa e lei mi dice non mi offenda non sembra una rossa Faustina la rossa ne racconti i petrolini ed era una roba quella era una rossa autentica e mi dispiace lei con Faustina la rossa che c'entra avanti e mi dispiace ma niente vabbè quindi è studentessa di che? lettere curriculum cultura teatrale è sempre un indirizzo di lettere sì ok quanto le manca a terminare? sette esami sette otto esami quanto veloce? speriamo velocissima ottobre si spera del prossimo anno ah speriamo e avremo l'ennesimo dottore in lettere una laurea triennale quindi in sostanza va bene organizzeremo delle torte da no no non intendo festeggiare ecco rosse anche le candele va bene chissà fatte con le n va bene senta signora posso sapere quanto è alta? io eh no io se lo chiedo a lei io direi quanto sono bassa me lo puoi dire? 1,60 mi sta dando del nano no io sono 1,68 mi dispiace non volevo offenderlo è sempre più alto di me però non ho capito quanto è alta lei? 1,60 più o meno 1,70 60 magari 1,60 magari eh e fa quasi niente attività motoria lei eh no proprio è una cosa strana a lei parte salire le scale all'università e le corse per prendere il treno ecco ok è un extension o sono capelli veri suoi? naturali chi ce l'ha più lunga? mi sa lei lo temo signora lei chi è? anche io sono una studentessa in lettere nel curriculum cultura teatrale ma perché venite a frequentare della gente che parte dall'idea che intanto si deve fare tutta un'altra cosa? è logico che siete già perdenti la curiosità mi ha spinto a venire perché mi pareva un argomento interessante anche se non ho appunto pratica non ho esperienza in questo campo ok ma questo quello che ha sentito non so quanto ha sentito la induce qualche pensiero? sì mi spinge a continuare su questo percorso non mi ha né demoralizzato né altro anzi mi ha spinto a no signora non ci sarebbe motivo di demoralizzarsi essendo studente magari non è prettamente anche lei fa di parte di quel vasto parcheggio che farebbe invidia a un qualsiasi impresario perché se uno avesse un parcheggio per tutti gli studenti parcheggiati vorrebbe dire che avrebbe un'arena per 4 milioni 5 milioni di spettatori lei è di Bari signora? no di Trani cioè lei ci viene apposta a Bari? grazie signora? sì io andrei apposta invece a Trani vabbè niente io ho un'associazione artistica culturale conoscevo Stefano e ci sono degli ideali comuni e la speranza di riuscire a comprendere meglio appunto quali siano le dinamiche e i meccanismi per tutto quello che lei sta spiegando cioè le differenze tra rete, filiera, collaborazioni, società di servizi insomma riuscire a capire oltre che quali sono i nostri obiettivi ma appunto le finalità e dove si può intervenire come per riuscire a creare che è quello che non esiste come diceva lei si fa per se stessi stop ti mangi la pagnotta oggi non ti interessa se domani no allora almeno il mio obiettivo sarebbe creare qualcosa di bello qualcosa di unico qualcosa da lasciare magari per aver avuto una traccia in questa vita se no o ero formica o ero foglia o sono Stefania è uguale per me ora al microfono ha parlato Stefania non la foglia ha parlato Stefania però è anche foglia in questo momento perché dal 2009 non lavoro ho sempre avuto nella mia testa proprio l'arte dal borgo antico quello che lei ha citato allora gli anfiteatri o tutti i luoghi antichissimi allora secondo me non c'è l'attuale se non c'è la storia il passato quello che noi siamo stati e quello che noi siamo stati lo dobbiamo traghettare cioè nel nostro passaggio dobbiamo salvare quello che avevamo per costruire il futuro altrimenti per come la vedo io ecco non si adiviene a nulla capisco che sono magari i discorsi un po' troppo però è quello che io esattamente penso no no signora è che siamo in minoranza siamo non attuali in questo periodo comunque il mio sogno è costruire qualcosa qualcosa di speciale qualcosa di particolare e forse l'avrò anche detto a Stefano o tante altre volte in occasioni che mi sono capitate ma purtroppo ad ora le collaborazioni giuste non ci sono state l'ideale più grande che da tanti anni perché sono andata anche a parlare con tante persone quindi tutti i suoi argomenti interessantissimi cioè proprio ho scritto anche dei messaggi che sentir parlare lei era una conferma dei miei pensieri purtroppo tragici di questo momento cioè con chi andiamo a interloquire che è una delle cose peggiori cioè quel discorso il fruttivendolo la macelleria con chi andiamo a interloquire che cosa ci può dare il niente quindi in questo niente ci dobbiamo muovere e capire come muoverci con chi muoverci per fare forza per fare rete per creare per noi e per loro giovani che sono tutti qua come si sente io potrei essere sicuramente loro mamma e devo dire che sono molto molto commossa dal fatto che loro sono qui perché evidentemente ecco non vogliono tra virgolette lasciare nulla cioè tentano di aprirsi verso una strada che possono percorrere che così può dar qualcosa perché non sanno nemmeno loro assolutamente comunque chiedo scusa perché sicuramente mi sono dilungata però la passione dell'argomento sicuramente è andata ben oltre il quesito però era necessario la ringrazio infinitamente penso che posso passare signora con la barba ci vuole dire qualcosa? sì dunque allora io mi divido da un lato nel ci dica semplicemente la sua busta paga no molto non busta magari ce l'avessi una busta paga a questo punto no e purtroppo mi occupo anche di teatro sono un attore anch'io quindi cosa è l'ultima cosa che avete recitato? l'ultima cosa è stato un adattamento dalla sgualdrina timorata di Sartre abbiamo fatto questo spettacolo che naturalmente voi non eravate il protagonista spero no no non ero il protagonista era uno dei personaggi sì voi eravate la sedia in fondo dove si siedeva il comandatore potrebbe essere molto interessante fare una sedia in uno spettacolo senta lei lei fondamentalmente si sostiene quindi con attività differenti da quelle del teatro no io vivo a casa dei miei lo dico semplicemente con attività e faccio teatro quello che riesco a guadagnare lo tengo d'accordo sapete che comunque non bidonano le maglie a strisce io ve lo dico grazie possiamo andare all'ipocondriaca io sono semplicemente una studentessa di lettere moderne di dove signora? di Bari cioè lei è originale non viene da Trani no sono originaria di Bari quindi il suo peccato inferiore no perché non è che proprio lo sceglie e ci va cioè mi sono trovata sì stavo passando ho visto ok e lei di che si occupa? io sono studentessa a lettere moderne ogni tanto faccio ripetizione dei bambini per avere racimolare qualche soldo quindi diciamo è ancora domestica la sua condizione sì sì sostenere di stare a Bari e assistere a questo continuo scempio del Teatro Margherita non eh? del Teatro Margherita che me ne dice? dove è finita la terza gratiscia del Teatro Petruzzelli di Bari? sa perché nei libri europei quindi lingua francese lingua tedesca in lingua inglese il Petruzzelli era riconosciuto non per quello che ci facevano dentro per cosa? per le cartapeste e per l'altezza della gratiscia cioè era il teatro è come dire un transatlantico non per la grandezza del transatlantico ma perché ha i motori atomici il Petruzzelli aveva tre gratisce e la gratiscia di di Arlecchino dove scendeva lo storico e aveva un'altezza impressionante era la più alta d'Europa e che fine ha fatto? ah me lo chiede a me di Bari a me mi ci hanno chiamato non ci sono venuto eh? ok è il famoso cos'è? Margherita si chiama? sì Margherita adesso ci fanno le mostre che le vanno a pagare tra migliaia di euro ma non è importante è il Margherita lo sape qual era la particolarità del Margherita? uno era in stile Liberty due era di legno e poi tre rispondeva ad un'antica istanza costruttiva che aveva il bacino idrico sottostante vi ricordate il fantasma in Notre Dame? il fantasma dell'opera e a un certo punto si vede che lui sta in barchetta cioè dal palcoscenico bl 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 i camerini in barca perché? perché il sistema costruttivo dall'antichità diceva che meglio di altre e per la propagazione della voce era la presenza di un corso d'acqua a Roma i corsi d'acqua stanno sotto il teatro dell'opera anche se sono stati chiusi stanno sotto il teatro Apollo che fu demolito per farci il grande argine per dire no? che era il teatro più grande di Roma e lo stesso l'idea che questa cosa fosse su palafitte riscontrava aveva la vecchia idea precedente che era quella che era costruita di legno come un grande stabilimento balneare Liberty famoso che sta a come si chiama sulla spiaggia di Palermo che ha questa forma appunto che viene da Liberty ma l'idea costruttiva era quella che avesse questo bacino che poi era lo specchio d'acqua funzionante sotto a me risulta che invece il fatto che sia nato e sia stato costruito sull'acqua magari aveva questo valore aggiunto che la camera acustica era la cassa acustica era migliore e che non poteva essendoci già in Petruzzelli poteva di regola non poteva sorgere un altro teatro a così poca distanza e ancora dice non sulla terraferma sull'acqua sì il motivo era anche quello ma fondamentalmente le ambizioni erano straordinarie quello doveva essere un teatro in cui c'aveva l'attracco per cui poteva arrivare la gente dei pensieri che oggi sarebbero un po' fesser in cui potrebbe mangiare tante di quelle società della mafia da fare invidia e quindi lei sta in una città in cui permette che il Piccini non lo aprono dovevano aprire una sala breve invece all'ultimo anno signore abbiamo quasi finito posso sapere lei in veste quasi di prete no? sì quasi di prete sì perché ha un abito un po' serio mi dica abbastanza lei è? io sono Maurizio non voglio sapere il suo nome Maurizio lei è una ci lavora il suo foglio paga è tutto dal teatro oppure lei deve fare una doppia attività io ci lavoro e prima di lavorarci ho la fortuna di aver fatto una buona scuola fortunatamente gratuita che è l'Accademia dei Feodrammatici di Milano se no non sarei non avrei avuto la possibilità di accedere a un'istruzione teatrale rilevante e vivo fra qui e Milano per cercare di raggiungere un minimo di decenza in busta paga cerco con quel poco che guadagno dall'attività che ho aperto qui che è un'attività di produzione teatrale di dare del lavoro a degli amici che come me fanno fatica ad arrivare a fine mese cerco di stringere rapporti fuori dalla Puglia con altra gente per provare a dare qui una sensazione di quello che avviene fuori dall'orticello e provare a mettere sullo stesso tavolo idee diverse ma con obiettivi comuni sono qui per questo motivo oggi sostanzialmente è tutto qua faccio questo parecchio io nel curriculum mi rimetterei un po' di meno bene anch'io vorrei signore veniamo a lei che ci incitava al pratico pratico si entriamo nel tutto quello che dirò sarà usato contro di me si ecco infatti anche perché c'è un tempo per vivere e un tempo per morire per morire io un tempo per sentire e un tempo per fumare e allora sarò conciso mi dica allora intanto mi riferivo a me prima nel senso che una volta usciti di qua poi noi ci ritroviamo praticamente a rimboccarci le maniche e a mettere ah ma perché ci sarà un'uscita se riesco a superare questo momento però doni era un aspetto che non mi era stato detto io sapevo che tutto rimaneva qua dentro poi ognuno di voi verrà utilizzato come panneggio per carte da parati oppure per le tende perché insomma questi luoghi vanno arredati ok beh io sto praticamente in quella fase in cui questo mondo che mi ha sempre appassionato fin da da ragazzo sta per diventare la mia vera occupazione in pratica io vengo dal mondo amatoriale ho un'associazione teatrale con cui da 30 anni porto in scena vari lavori alcuni li scrivo io faccio la regia di di quello che portiamo in scena e comincio a fare dei laboratori da qualche anno e quindi sta diventando un'attività strutturata sta diventando un'attività strutturata sono un giornalista professionista pentito mi sono trovato in passato a difendere questi argomenti ma assessori alla cultura mi hanno deferito all'ordine dei giornalisti e quindi sono diciamo contento anche di questo ok signori nella somma di tutti noi non indago naturalmente sopra i signori che sono gli organizzatori e voi però cercate di non indacare su di me che sono il relatore è chiaro che noi stiamo parlando di un qualche cosa chiamiamolo rete partendo fortissimamente da punti completamente differenti e fondamentalmente parlando di un qualche cosa che a oggi per nessuno di voi tranne forse una piccola eccezione non è produttivo se abbiamo consapevolezza di questa di questo ambito noi nell'appuntamento da qui a mezz'ora non so quanto tempo ci darà diaria il signor Morciano noi affronteremo tutte con molta perizia il problema delle associazioni il problema delle associazioni in categoria il problema dei lavoratori il problema degli studenti il problema del culto universitario i problemi della rete li affronteremo tutti e anche molto brevemente però vi prego non presentatevi nel pomeriggio se non avete la chiarezza che non ci sono argomenti nella rete che possono rispondere a voi la questione è se voi potete rispondere alla rete ma non che i vostri argomenti trovino risposta nella rete perché solo se abdicate a questa che ne so esondo di impotenza in cui a diverso titolo dall'allieva all'attore dal praticante a cosa voi vi siete diciamo donati a questo ambito cioè voi dovete fare un grande atto non di fede di consapevolezza che voi le vostre particolarità non sono argomenti da rete l'informazione di ognuno di voi possono essere i segmenti importanti per chiunque altro anche al di fuori della rete ma qualcosa può procedere e incominciando a prendere i pupazzi con la pasta di legno della signora piuttosto che non l'esperienza laboratoriale da psicodramma del signore piuttosto che non quello che la signora in verde ci vuole vendere piuttosto solo a condizione che ognuno si spoglia dell'istanza e invece si va a interprete dell'esigenza perché io posso aderire alla tua esigenza se combacia con la mia altrimenti ti posso solo che ascoltare e la rete è una prova di maturità ma non per gli altri proprio per noi stessi abbiamo roba che è necessità o sono solo istanze perché se sono solo istanze capite a me ognuno ha due figli e ognuno deve portare da mangiare a casa e ognuno ci dirà sai veniamo al sodo veniamo al pratico io devo portare a comprare i libri a scuola io devo garantire questo io devo garantire e io che cosa posso fare io io per chi interloquisce per dire può ascoltare può annuire ma io con te non posso fare niente tanto è particolare la tua istanza vera legittima sacrosanta per l'amor di Dio parli le cose fondamentali mangiare bere dormire fare l'amore forse avere una casa tutto vero perché credi io non ce l'abbia ma se io ti parlo della mia istanza e tu mi parli della tua istanza facciamo un bel incontro di istanze ma dov'è che cresciamo è chiaro quindi più tardi il signore ci sta togliendo la parola no 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 devo fare delle domande che arrivano da Milano e dalla Basilicata proprio a chiusura è chiaro comunque ci incontriamoci fra un'ora quando sarà la comunicazione solo ed esclusivamente con un atto di fede nei confronti di quello che ognuno di voi mi è venuto a dire no perché io ci credo no perché quello è il mondo mio no perché io ci ho dato la mia vita ok per favore glielo dai la vita a quello e tieni un attimo in silenzio questo cane che ulula e chi è questo cane per favore è legittimo è autentico è vero è carne però non possiamo ma non per ezzittire le istanze singole ma è proprio per farle esplodere in qualche cosa che non sia sempre scusatemi la conclamazione dell'impotenza dei singoli che messi dentro una camera diventa la conclamazione collettiva dell'impotenza allora Vlad Scolari da Milano è possibile realizzare una rete di distribuzione delle compagnie indipendenti di realizzare una rete di distribuzione delle compagnie indipendenti io lo credo fondamentalmente però sempre facendo attenzione non si chiama rete ma si chiama circuito la rete vuole dire possiamo capire sopra un argomento l'80% della produzione contemporanea è completamente insufficiente cioè la gente non vuole vedere quella roba bella o brutta che sia non sto pensando non è una critica al contemporaneo la gente non la vuole vedere allora può la produzione contemporanea indipendente porsi il problema di fare teatro e di non fare arte questo chiederebbe un circuito la rete ha delle maglie più larghe e si può permettere di dire va bene posso superare il problema però allora non parliamo più di distribuzione parliamo di accoglimento finisco solo una cosa questo l'avevamo accennato il problema della produzione è fondamentale ogni cosa che sta in rete sicuramente può transitare le esperienze e quindi il repertorio di ognuno ma fondamentalmente si deve fare orecchio sensibile delle istanze e quando non ci sono di inventarsele ma ragazzi non si può sempre osseguiare quello che ci piace di ognuno di noi io non so per quale motivo scusi la prendo per esempio ma solo per far capire ai colleghi non c'ho niente per quale motivo uno fa la sgualdina timorata di Sarte c'è un lavoro straordinario di Mastroianni 1816 che è la sgualdina timorata fatta da uno a Brindisi è chiaro? perché la sgualdina timorata di Sarte non che va male ma io lo devo capire io devo capire qual è la committenza la committenza vuole dire che qualcuno ha detto senti te con la maglia strisce vi do 10 mila euro se mi fate la sgualdina timorata almeno capisco che sopra il territorio qualcuno vuole quello spettacolo ma se me lo fai tu d'amblè mi devi spiegare perché perché c'è più mercato Sondrio cercava una sgualdina timorata perché è il bicentenario della morte delle sgualdrine timorate perché sgualdrina è la s avevate iniziato da là e questo qui era l'anno della s ma io ho bisogno di avere un qualcosa di più che non la vostra volontà implacabile di essere protagonisti di un mondo che non vi vuole perché stiamo parlando di teatro non di una cultura astratta di teatro non di un'arte infinita e algida che dice vieni guardami e apprezzami e taci e patta il teatro io io cosa sono in questo momento un relatore ma a condizione ci siete voi se c'era io Murciano e le due telecamere posso dirmi relatore no e il teatro se siete voi i quattro fan club si chiama teatro no si chiama arte si chiama sede di orazione si chiama tutto quello che vi pare non è teatro perché il teatro ha una umiltà che deve essere imparata nuovamente al teatro di sapere che lui è la metà del cielo ma c'è pure l'altra metà quindi un circuito non solo è possibile è necessario però non alle condizioni di protezionismo dei circuiti regionali dei circuiti ideologici dei circuiti soprattutto di genere perché come dicevamo all'inizio il teatro muore laddove viene declinato cioè non ci può essere negli anni 80 90 il teatro di figura il teatro della nuova dermatologia il teatro della quarta parete era tutto il contemporaneo che cercava di crearsi un'eccellenza dove poter dire il primo ora la maturità e la consapevolezza delle nuove generazioni su cui io credo moltissimo può dire io sono contemporaneo sono differente da tutti gli altri perché sono indipendente ecco perché io vi chiedevo quanto guadagnavate attenzione non perché mi interessa ma perché se io in questo momento ho 10 euro in tasca mi posso permettere due cose uno di non andare a lavorare stamattina e due di prendere un caffè con il signore se quel denaro è l'autonomia di scelta dall'autonomia di scelta io andando a parlare con lui che ha la stessa autonomia mia so che lui sta scegliendo non che lui viene da me e si fa e si prostra pur di avere mezzo spettacolo da me perché mi scambia per un organizzatore e io lo scambio per una risorsa del territorio che mi costa meno ma vedete che aberrazione ecco un circuito però non una rete perché la rete magari può avere la necessità di dire scusate qualcuno si pone il problema che l'anno prossimo c'è l'expo sull'alimentazione e poi la compagnia inaugurale e il circo du soleil cioè stiamo in Italia non stiamo in Canada come fare a dire autonomia se poi la massima istituzione tutti pippia silenziose domanda numero due due teatro tweet da Milano perché direttori artistici organizzatori critici non vanno a vedere i nuovi spettacoli delle giovani compagnie non lo so bisognerebbe chiedere a loro bisogna chiedere a loro ma fondamentalmente il problema è questo innanzitutto ha citato tre categorie quattro categorie direttori artistici critici organizzatori ok stiamo parlando di tre ambiti che non c'entrano niente il signore probabilmente li mette insieme perché punto in quel caso è l'interlocuzione che è sbagliata l'organizzatore se fa l'organizzatore lo inquadriamo in un mondo più tipicamente imprenditoriale e quindi come mondo imprenditoriale io ci devo fare i soldi con questo l'80% degli spettacoli giovani indipendenzialmente se è bello o brutto quindi non è un problema di qualità è autoreferenziato e con l'autoreferenzialità non vendi i critici sono un'altra categoria i critici dovrebbero conferire una sorta di a plombo e quindi chi sono i critici? sono alcune volte i consulenti di festival e di rassegne che fondamentalmente sono una miscellanea di di collusioni politiche maniacali e lobbistiche quindi che mi venga a prendere a vedere un critico per mettermi in un festival a meno che non mi danno 30 mila euro per una recita allora mi cimento ad avere mi cimento nel senso mi impegno ad avere quel critico poi per il resto i critici nella loro totalità il settore nella sua totalità non è riuscito a garantire lo spazio dei critici quindi i critici ormai rappresentano purtroppo e lo dico con sofferenza non più quella possibilità mediatica e comunicativa per cui la gente veniva a Roma e a Milano a fare gli spettacoli ad incasso perché dice mi escono 20 articoli e quindi era un investimento di un altro tipo mediatico comunicativo cioè se lo spettacolo andava bene a Roma uscivano 13 recensioni ora non è più questo quindi i critici non 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 rispondono più a quell'aspettativa funzionale alla produzione al limite possono rispondere all'aspettativa di essere accettati in un festival tutto sto lavoro per entrare in un festival mi sembra assolutamente sbagliata l'interlocuzione io non la praticherei ultimo i direttori artistici per favore indicatemili perché non li conosco cioè l'80 90% dei soggetti se non sono collusi o corrotti dove collusione e corruzione non risponde solo al principio più consueto politico economico collusi e corrotti con la loro professione al massimo sono solo ed esclusivamente dei coordinatori dell'esistente io ogni volta che mi chiamo direttore artistico dico e mi piacerebbe perché io esercito su 470 spettacoli di ospitalità la cosiddetta direzione artistica solo nell'indirizzo ma il vero direttore artistico dice l'anno prossimo anzi signori quest'anno era l'anno augusteo se qualcuno vuole venire a fare qualche cosa intanto mi presenti un progetto su augusto imperatore e poi secondo ho i soldi in tasca per dare a quel progetto che mi piace con quell'attore che mi piace e con quello scenografo che mi piace 50.000 euro tutte le persone che non sono in grado di fare questa cosa semplice che non lo possono fare per qualsiasi non sono direttore artistici il direttore artistico non esprime il vorrei il direttore artistico dice io sono qui mai chiamato bene io voglio fare l'anno augusteo poi alza il telefono chiama Murciano e dice dalla Puglia chiama chi te pare però il tema deve essere augusto e poi siccome già il teatro ce l'ho deve essere cantato questo fa un direttore artistico tutti gli altri non sono direttori artistici tutti gli altri nel migliore dei casi sono dei coordinatori nel peggiore dei casi sono delle segreterie di impresariate di giro quindi perché non va il direttore artistico non va a vedere il teatro contemporaneo perché il direttore artistico non ha istanza altrimenti se volesse vedere qualche cosa dovrebbe avere delle istanze invece fa l'estate barese l'estate romana chermesse e quindi è logico che non vanno perché sono sicuro che la proposta del teatro indipendente quasi sempre è di genere autentico cioè sono dei target specifici ma se non c'è un'istanza su quel target non è cattiveria non è è proprio che non c'è non gli viene in mente se no altrimenti dovrebbero fare questo che io che sto facendo in questo momento io gatti sto davanti a voi quanti siete 40 sto facendo una manifestazione che ho chiamato la visione trascendente punto nel dire questo non è che non esercito nel dire che non mi interessa la sgueldrina timorata piuttosto che quello io sto dando una opzione di ascoltare tutti quelli che hanno uno spettacolo su questo target né sono disponibile a dire ma sai la sgueldrina timorata Sartre in quello voleva dire la trascendenza del corpo e dai vabbè è chiaro però molti di loro non sono disponibili a fare uno spettacolo sulla visione trascendente e quindi dicono tu quindi non sempre è colpa di queste tre categorie io come coordinatore non come direttore artistico vi devo dire che a me mi chiamano mi dice maestro abbiamo uno spettacolo straordinario per i teatri di pietra bene che cos'è tutta l'antologia è spurriver e dimmi quando la fai che la venga a vedere perché mi piace chi la fa tizio caglio sempre oh eppure è bella allora maestro facciamo dieci recite di che ma cioè come si chiama questa manifestazione teatri di pietra si chiama sede del teatrale per quello che non viene accolto dagli altri o si chiama teatri di pietra ah ma allora lei come fa a dire un giornalista lei come fa a dire che il classico è solo greco romano io infatti non dico che faccio teatro classico io dico faccio teatro greco romano e del bacino e mediterraneo solo a condizione che il riferimento sia questo allora Shakespeare fa i drammi romani e che problema c'è presentami un progetto su Giulio Cesare Titus Androncus ma perché io devo fare perché quest'anno il produttore si è svegliato che voleva fare Allegra Comari e dice ma Shakespeare è un classico ho capito mi chiamo teatri di pietra un domani voi qui farete il teatro del fieno nelle cose oppure l'olivo sacro poi viene Gatti che ormai ha fatto amicizia con voi dice ragazzi c'è uno spettacolo straordinario che si chiama Metropolis ma stai parlando con noi noi abbiamo gli olivi ci stanno morendo però si chiama olivo sacro ma qual è il tuo problema Gatti capite che non sempre il problema è dall'altra parte e lo dico sia da produttore ma molte volte da gestore delle manifestazioni teatri di pietra cerca non quegli spettacoli qualcuno mi presenta melodia primordiale fammi capire il canto di core ma va bene core la divinità sì quella arcaica va bene come lo metto in scena mi dice bene e ci sono dentro e che musica dice no e c'ha la musica di Biggins perché no no fammi capire dice ma allora non sei contro il teatro contemporaneo no tu non capisci niente e questo sarà un versante su cui vi dovete pregiare ognuno di voi cioè il rispetto la rete rispetta l'identità delle persone sì ma anche l'identità dei luoghi che c'ha i Biggins dal vivo per cui io sento la voce con la chitarra dei Biggins no no ma dai che scherzi e allora che vuoi da me perché metti i Biggins perché io devo assecondare questo vezzo interpretativo lo vuoi fare e battere in qualsiasi teatro ma perché dentro un teatro che la Madonna se devo rispettare la libreria più antica e meno antica ma perché non vuoi capire che su quelle pietre sono pietre che hanno un valore perché sono state pregate amate desiderate chi sei tu con questo vezzo di dover dire come senti l'araba fenice il teatro è una bella possibilità di essere umili e chi non lo è per favore non dica che fa un altro teatro dica che faccia un'altra cosa forse arte si vada a nobilitare degli altri e parli con Bonito Oliva e con quello che prende a parolacce tutti come si ha visto cosa Garbi ma non venga a disturbare il teatro che ha già tanti pensieri comunque rete è una cosa circuito è un'altra tutto si può attivare basta che ci sia questa misura non degli altri innanzitutto di quello che vuoi tu perché se tu vuoi canali di distribuzione la rete non serve la rete può perfezionarli può sostenerli ma non è la rete è un uso improprio della parola rete la rete è solo per la promozione del nuovo la rete se domani si costituisce dice io che conosco 30 associazioni che conosco chiederò a quelle 30 associazioni se vogliono affiancarmi su un'iniziativa di start up di lavorare insieme perché nessuno di noi ha lavorato insieme se non in maniera individuale e quindi chiediamo una fesseria a Gatti che è responsabile di una rete di parlare con i teatri di pietra perché abbiamo un sito archeologico che la donna poc'anzi che fotografavo mi ha detto che esiste che è il chiostro del museo archeologico l'ha affinché noi tutti ci sperimentiamo nello stare insieme in un progetto questo fa la rete perché altrimenti se io sopra questo foglio vi interrogo ognuno e ognuno di voi mi dà i suoi titoli signori io ho semplicemente un elenco di titoli meravigliosi della produzione contemporanea a Bari e dintorni ma non ho materiale per fare un progetto competitivo perché piccola parentesi a Palermo è in programmazione la sguardina timorata e non vado a indagare che cosa fa ognuno di voi competitivi significa essere unici io mi riserverò di stare a sentire l'ipocondriaca o il signore che dice fare l'attore ma a condizione che mi dica un qualche cosa che mi arricchisca che sia unico non posso sempre sentire la stessa cosa dice sì però la fa l'ipocondriaca non ho capito la fa e quindi solo per questo io gli devo riconoscere una plusvalenza ma siamo fuori quale diritto alla vita ognuno di noi ha è un'impostura perché se ci fosse diritto alla vita non dovremmo assistere a 1312 delitti in famiglia no? a 4600 morti sul lavoro quindi non c'è nessun diritto alla vita tanto meno alle idee togliamo le imposture parliamo di cose vere cose da fare sì però per favore scrostiamo questo carattere di aurea non c'è nessun ave c'è la concretezza la concretezza significa che io mi permetterò forse di finire questa giornata non di sfidare di mettere una prova e dire guarda maestro vi volete fare voi interprete ok ho deciso movimenterò quelli dell'alterazione che bene o male si mantengono hanno qualche per comunque investire qua cioè vuole dire se la cosa costa 10 devi mettere 5 vuoi mi dare la risposta entro 10 giorni subito dopo e io vi faccio vedere che non viene neanche con un'istanza così dettagliata grazie allora volevo ringraziarla e un attimo giusto per chiarezza siccome c'è una terza domanda la quale voglio dire potremo rispondere in realtà alla fine della giornata e visti i tempi io ve la sottopongo ciononostante sicuramente ne faremo dopo un sunto e pubblicheremo su internet sull'hashtag reteatro in modo tale che diciamo la committenza in qualche maniera possa essere soddisfatta della risposta la domanda comunque era questa viene della basilicata di Alessandra Coretti mi piacerebbe sapere come creare una rete che tenga conto delle peculiarità di ogni componente del network pensando alla rete di relazioni non come un brand ma come nuove metodologie di sviluppo questo sarebbe interessante giusto spostarla alla fine ma solo perché sino adesso io mi sono cimentato vorrei sempre chi di voi ci sarà con il patto non scritto ma ve l'ho richiesto io di capirci una volta per tutte lasciamo perdere gli studenti mi perdoni che hanno questo afflato e la conoscenza ma gli altri devono posizionarsi in una qualsiasi geografia e questa è una geografia dell'essere non del fare è chiaro noi non so se farò qualcosa con te ma io devo trovare un ambito in cui tu innanzitutto sei però per favore viene all'appuntamento che sei ringraziamo Aurelio Gatti per la lezione mattutina e in sostanza per lo streaming si conclude qui diciamo la diretta perché la seconda parte della giornata invece sarà tra virgolette a porte chiuse sarà project working voglio dire per quanto riguarda lo streaming che le domande possono continuare ad esserci tanto che la domanda da Alessandra Coretti verrà diciamo la risposta da Alessandra corretti verrà data appunto online di concerto con lui e niente quindi ci trovate online seguite gli aggiornamenti per lo streaming ci rivediamo il 19 questo è quanto arrivederci e una buona giornata grazie